Un solo punto guadagnato dagli algresi è sicuramente un'occasione mancata da Pesapane e compagni, per incassare punti pesanti al fine della classifica. Per la cronaca la gara si è chiusa a favore dei laziali per un punto 21-20 così come è accaduto al termine dei primi 40 minuti. Ad aprire le marcature già dal primo minuto ci pensano i padroni di casa con Savem che va in meta non trasformata per i primi 5 punti di giornata. A pareggiare i conti dopo soli 6 minuti è Federico Fernandez, anche la sua meta non vedrà la trasformazione per il 5-5. I laziali spingono e costringono gli algheresi al fallo e quindi su punizione ancora Salem mette in cascina altri tre punti. Da lì pare che la primavera voglia ingranare la marcia e si porta sul 13-5 con un'altra meta, questa volta firmata da Alegiani, 13-5. Ma l'Alghero non desiste, tutt'altro, e si vede a segnare una meta tecnica dall'arbitro. Il primo tempo si chiude sul 13-12 per la primavera. Al rientro in campo l'Alghero prova a riaguantare la partita e ci riesce grazie a una meta di Pesapane e ad un piazzato di Anversa che porta il risultato sul 13-20. Quando era il momento di chiudere i giochi, gli algheresi hanno permesso troppo ai padroni di casa, che prima con Alessi e poi con Salveme hanno messo a segno ben 8 punti in 7 minuti, frutto di una meta e un piazzato per il definitivo 21-20. Un risultato che sa di beffa per l'Alghero, che forse avrebbe potuto evitare alcuni errori non permettendo così il ritorno dei laziali. La classifica vede sempre in testa la Capitolina che allunga ulteriormente e sale a 36 punti, dietro il Catania con 25 e subito dopo l'Alghero con 24. Ora pausa per le feste di Natale e fine anno, si riprenderà a giocare il 13 gennaio del 2019, quando a Maria Pia l'Alghero ospiterà il Pesaro Rigby, attualmente quarta forza del campionato con 20 lunghezze.